Il fatto che non c'è il Mose è di Toninelli, di Danilo Toninelli, il ministro che invece ha fatto il decreto che ci ha permesso di nominare un commissario per finire quell'opera. La colpa il centrodestra la deve cercare al suo interno, anche perché governano Venezia, governano da sempre il Veneto, il Mose se lo sono inventati loro, ci hanno speso 7 miliardi e non sappiamo quante decine di milioni sono andati in tangenti e adesso vengono a dire che il fatto che non funzioni quell'opera è colpa del Movimento 5 Stelle. È assurdo, però devo anche dirvi che se non reagiamo con la controinformazione alla fine passerà questo messaggio. Io lo voglio dire agli attivisti, ai parlamentari, ai consiglieri comunali, regionali, agli europarlamentari, ai sindaci del Movimento 5 Stelle, ai consiglieri di municipio. Noi non possiamo stare a guardare mentre ci incolpano di tutti i danni e di tutti i problemi dell'Italia fatti negli ultimi 30 anni. Stiamo al governo da 18 mesi e veniamo accusati di non aver risolto i problemi causati negli ultimi 30 anni da chi? Da quei partiti che ci accusano di aver bloccato il Mose o i partiti che ci accusano di non aver risolto il problema dell'Ilva.